C'è un'altra statuetta invece che è il corpo vivente della città di Napoli, che sono gli esseri umani, sono quelli più deboli, più fragili e che rappresentano davvero l'onnipotenza del Dio che si è fatto carne. Mi sembra che l'iniziativa della parrocchia con Don Doriano voglia proprio diventare un bellissimo pro memoria per dire che Natale lo si può celebrare veramente al di là delle statuette ma soprattutto nella misura in cui le nostre braccia come quelle del bambino raffigurato nel presepe si trasformano in abbracci e non in protesi che respingono. Per la prima volta un presepe vivente sarà in mostra per le strade di Secondigliano. È ispirato alle sette opere di misericordia e si terrà il 28 e 29 dicembre del primo gennaio alle ore 18 per iniziativa della parrocchia dell'Immacolata Concezione a Capodichino. Il tema scelto è quello dei migranti con le loro storie difficili e con la messa in scena delle situazioni estreme con cui affrontano i viaggi e l'ostilità della gente, raffigurando quindi lo stesso concetto della misericordia nell'unione fra antico e presente. Riprende il quadro famoso di Caravaggio sulle sette opere di misericordia ma soprattutto ha una particolare attenzione ad un tema che sta molto a cuore alla Chiesa e non solo che è quello dei migranti. Tant'è che la Sacra Famiglia sarà personificata da una coppia di profughi siriani e anche le immagini saranno un po' particolari perché sono quelle figure che in genere i migranti incontrano dai quali sono salvati, un pescatore, un medico e una guardia costiera. È la prima volta che Secondigliano ospita un presepe vivente e lo fa appunto sul corso che porta il nome del quartiere quindi in una zona molto centrale ed è anche questo un modo per rendere più bello anche il quartiere e più vivibile anche il quartiere. E' anche il tentativo di portare qualcuno che magari anche gli stessi neapoletani che magari conoscono Secondigliano solo sullo stradario ecco portarli lì e far capire che invece Secondigliano può essere un luogo vivibile, abitabile dove ci sono anche delle cose belle da poter vedere e condividere insieme.